Lewandowski, sei partito non con i gradi di titolare all'inizio della stagione, eppure alla prima ufficiale in porta Lewandowski e che parata nel secondo tempo, una parata che salva il risultato su Cremona? Vabbè, era solo una parata, quindi io sono contento che ho fatto la salvezza, magari, non so perché poi potevamo fare pure noi gol, tanti gol perché abbiamo fatto un po' di occasioni di attacco, però io sono contento di mia prestazione, volevo lavorare su questo, poi sono professionista, quindi volevo cercare pure opportunità per me e volevo fare bene per la squadra. Senti, il mister ha detto ieri in conferenza stampa, non c'è Gomis, però mi aspetto tanto da Michael perché può prendere il posto da titolare, perché sa che questa è una grande occasione. Una cosa che avevi detto, anche te l'anno scorso quando ti giocavi il posto con calore, volevi la tua possibilità, pensi di averla sfruttata bene? Vabbè, io mi aspetto sempre per l'occasione mio, poi se il mister mi fa entrare in porta io voglio dare il massimo, magari oggi ho fatto bene, magari ci sta un'altra partita che sbaglio qualcosa, però lavoriamo su quello, voglio fare sempre bene io. Senti, il tuo rapporto non solo con i compagni di squadra, ma con i compagni di riparto, con l'IS che adesso è fuori squadra, immagino che parliate, come la sta vivendo lui? No, io con l'IS che stiamo in ottimo rapporto, ci aiutiamo sempre, poi io sono per spingere lui, lui vuole spingere sempre me, poi ci sono pure ragazzi che sono bravi, quindi ci aiutiamo sempre noi, in tre, quattro siamo. Zichella ha detto che questa Coppa Italia in fondo ci tiene parecchio voi? Pure noi, vogliamo andare dove possiamo andare alla fine, ci diamo massimo in Coppa, poi dove arriviamo, arriviamo. Grazie a tutti.